Chiesa Nuova è sede di un importante progetto che riguarda rifugiati richiedenti asilo. Esattamente, da ormai 20 anni Chiesa Nuova partecipa a questi progetti per l'inserimento nel territorio comunale, in alloggi in parte comunali e in parte che il Comune affitta per questi rifugiati, per dare la possibilità a queste persone che hanno problemi nei paesi di origine di essere aiutate e integrate nella società italiana. Vengono a Chiesa Nuova, oltre ad imparare ovviamente la lingua italiana, vengono aiutati nel rendersi indipendenti in questo ambiente, dal fatto di prendere la patente, fare dei corsi per il lavoro, la lingua italiana e tutto quanto, dopodiché, trovato il lavoro, svolgono un'attività loro indipendente al di fuori del centro e qualcuno ha trovato sistemazione a Chiesa Nuova, acquistando addirittura casa a Chiesa Nuova o affittando case qui nel nostro paese. Quindi penso che sia un progetto valido e che ci sia stata una buona integrazione, non solo a Chiesa Nuova, ma anche nei paesi limitrofi, perché poi qualcuno va ad abitare a Cornier o nei dintorni.